Ben ritrovati in nuova puntata di Cronache Trevigiane, parleremo di fuoriclasse come una grappa, come un latte speciale o come una persona che supera le ludopatie e cominciamo proprio in casa di latteria di Soligo con il latte bio che traina la crescita dell'azienda, vediamo il servizio. È tempo di assemblea generale dei soci in casa latteria Soligo. La storica cooperativa trevigiana che conta tre stabilimenti in Veneto e una base sociale di 160 aziende agricole conferitrici ha raggiunto quota 68 milioni di fatturato nel 2016 registrando una crescita dell'utile pari al 36%. Un bilancio positivo dunque al termine di un'annata difficile per tutto il comparto lattiero caseario. Un anno di lavoro che non è stato facile per la Soligo, per il settore lattiero caseario. I primi mesi dell'anno sono stati molto difficili con quotazione del latte che era bassissimo, un crollo inaspettato per poi riprendersi verso fine anno. Così naturalmente i prezzi dei prodotti finiti hanno subito una contrazione. Attualmente stiamo vivendo momenti anche di troppa produzione di latte. Finito le quote latte ognuno è libero di produrre. In Italia siamo carenti, alcune aziende avevano bisogno di produrre di più per stare a galla perché non è facile per gli allevatori in questo momento riuscire a compensare i costi che hanno nelle aziende. Un'azienda in controtendenza rispetto ai trend del settore grazie all'attenzione riposta in questi anni ai cambiamenti del consumatore, sempre più propenso ad acquistare prodotti biologici e a bassi contenuti di grassi e zuccheri. A fare la differenza così sono la nuova linea di latte bio che segna un più 33% e il latte e la mozzarella senza lattosio le cui vendite sono cresciute del 10%. Direi che il biologico sta facendo una buona parte, la gente è molto attenta al biologico, ci sono tantissimi che diciamo che è molto difficile fare del biologico che sia tale e noi abbiamo poche aziende selezionate su questo, controllate. Io credo che nel tempo sarà sempre più sia i prodotti funzionali della Tosati ed altri prodotti e i biologici avranno sempre più un loro ruolo più importante nelle nostre aziende e nelle nostre case. La qualità del brand Soligo, d'altra parte, è ben riconosciuta dai consumatori grazie anche al marchio regionale Latte QV, qualità verificata, attribuito all'86% delle aziende agricole e conferitrici della cooperativa trevigiana. Quando il consumatore vede quel marchio, vede qualche cosa sia del territorio ma anche una garanzia perché ci sono dei controlli, dietro il marchio QV c'è tutta una filiera e questo è importante per il consumatore. Qualità del latte made in Italy garantita da oggi anche attraverso un nuovo strumento normativo, l'obbligo per le aziende produttrice di latte e derivati di indicare in etichetta l'origine delle materie prime. Entrata in vigore a livello nazionale, la normativa che garantisce la massima tutela e trasparenza per il consumatore non è stata tuttavia ancora recepita a livello europeo. Come mai il resto dell'Europa non vuole l'etichettatura che l'Italia vuole? E faccio un altro ragionamento, perché tutti gli altri ci coprano i prodotti e noi non copriamo quelli degli altri? Io credo che la garanzia per il consumatore sia questa, queste due domande che ho fatto. Non vogliono dare a noi la possibilità di etichettare perché sanno che per noi è un valore aggiunto, copiano i nostri prodotti perché sanno che sono i migliori e i più ricercati. Il brand Italia va e va alla grande, diamo come ripeto la sicurezza alimentare migliore al mondo e per questo gli altri non vorrebbero ed è giusto che invece lo sia, sia detto che il prodotto italiano è italiano perché noi diamo più garanzia di tutti gli altri.